Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora ultimo video per questa serata perché sono senza voce e un'ora che parlo sono morta video recensione di un solo prodotto prima di iniziare ovviamente ti invito a mettermi un po' a licenza se ti piacciono i miei video e a iscriverti al canale se non vuoi perdere i prossimi in questo video vi vado a recensire questo prodotto che è stato sannato negli anni scorsi e che piano piano sta sparendo dalle recensioni del web o comunque non è portato alla ribazza come lo era qualche anno fa sto parlando semplicemente di questo roll di bellezza con la giada verde reale, vera questo è venduto dalla Rose & Thiel, 100% vegano, ovviamente dice che ha un roll di bellezza alla giada pura che è una pietra di eterna bellezza si possono fare ovviamente diversi massaggini, ora li vedremo uno alla volta allora, a me sta piacendo tantissimo vorrei lanciare in voga di nuovo questo prodotto perché lo considero a parte come rullo massaggiante quindi come un di più rispetto ai semplici massaggi che si possono fare con le mani ma anche come prodotto effettivo di bellezza grazie ai principi e alla potenza direi proprio della giada verde allora, partiamo prima dall'oggetto in sé quindi un oggetto, un rullo per il viso per effettuare dei massaggi allora, ci sono ovviamente come si vedono due pietre una un po' più piccola per gli occhi e questa un po' più grande per il viso allora, sulla confezione invita a passare il rullo sulle palpebre sulla parte esterna e nella parte inferiore per sgonfiare, portare ovviamente a massaggiare il prodotto, le creme, eccetera gli oli che si mettono in questa zona e farli assorbire più rapidamente con il rullo più grande ci invita a fare tre diversi massaggi un massaggio sulle gote per rimpolpare questa zona e liftarla un massaggio antistress qui sulla fronte andando verso le tempie che aiuta a massaggiare questi muscoli che sono quelli della concentrazione e a rilassarci dopo una giornata di lavoro e poi un massaggio antigravitazionale per la linea del collo aiuta a liftare da un lato e a snellire e a rimodellare dall'altro come strumento di massaggio se si è brave a farlo con le proprie mani è veramente un di più nel senso che ho dei massaggi che negli anni ho perfezionato per me è quasi un di più però io voglio parlare del plus di avere delle giade vere da passarci sul viso allora vi dico che sono vere perché se voi le tenete tra le mani non si riscaldano posso stare in questa posizione cinque minuti e le due pietre rimarranno freddissime a differenza di questo centrale che è palesemente finto perché l'ho tenuto in mano pochi minuti, pochi secondi è già caldissimo loro due sono vere che cosa comporta l'utilizzo della giada sul nostro corpo allora la giada per chi ci crede ovviamente io ci credo tantissimo è una di quelle pietre che stimola il chakra del cuore quindi che cosa fa utilizzare un rullo del genere sul nostro viso va a reagire con il chakra del cuore quindi a resettare l'organismo e in particolar modo a rafforzare il nostro cuore per avere un beneficio visto che rafforza il nostro cuore ha anche un beneficio sul nostro sistema immunitario e ovviamente noi siamo un tutt'uno mente-corpo eccetera e se ci si rafforza piano piano eccetera andiamo sempre ad avere un beneficio completo su tutto il corpo che può essere banalmente una riduzione o un rallentamento delle rughe se io mi vado a rinforzare il mio sistema immunitario sono più forte produco più rispetto a chi purtroppo non è forte intendo proprio come sistema immunitario e ho meno rughe ho meno grigiore sul volto ho meno quella sensazione di stanchezza e appesiantimento che ha una persona che purtroppo non sta più benissimo quindi utilizzare queste pietre poi dipende poi che tipo di pietra ti serve aiuta a 360 gradi il proprio corpo ritornando ai benefici della giada è una pietra che aiuta il nostro corpo a rigenerarsi sempre per il principio che stimola dall'interno stimola il processo del sistema immunitario aiuta a rigenerarsi dall'interno e a eliminare tossine semplice e banale hai un bicchiere d'acqua sporca se io ci verso dell'acqua pulita cosa succede? l'acqua sporca va via ok? e rimane poi solo l'acqua pulita se io mi concentro a fare dei massaggi con questo tipo di rullo mi purifico piano piano e ovviamente risulterò più fresca dopo perché non avrò più non so neanche come spiegarvelo non avrò più all'interno sporcizia non so se dirvela in questo modo e funzionerà tutto meglio sembra un pochino quasi una non voglio dire una presa in giro per me che ci credo vedo la differenza da quando non lo usavo a quando sono tre mesi e più che lo sto utilizzando mi sento meglio con me stessa con il mio corpo con il mio viso vedo una luce diversa sul mio viso vedo che mi rigenero di volta in volta dopo l'utilizzo io di solito l'utilizzo la sera quando faccio la mia skin care serale quindi la giada che ha stimolato la mia circolazione e in circolo tutto la nottata e quindi la mattia sono luminosa e splendente ok non ho altro da aggiungere per consigliarvi questo prodotto io ne sono super soddisfatta e ringrazio la mia amica per avermelo regalato a Natale è stato uno dei regali più belli ma ricevuti sono veramente contentissima ok questo video finisce qua io spero di esserti stata utile se ti è piaciuto questo video mi raccomando sostegno con un pollice in su e iscrivendoti al canale ci vediamo nel prossimo video bacione ciao e in gamba grazie a tutti